Dopo l'appello, il casting, non sono stati pochi, nelle ultime ore, i sindaci che hanno risposto all'appello di Rocco Commisso alla ricerca di un'area per il nuovo stadio della Fiorentina. Accanto a Emiliano Fossi, l'investitura di Campi Bisenzio è scattata dal primo giorno a Firenze del nuovo patron Viona. Tra timide telefonate all'entourage di Commisso o allo studio di Marco Casamonti, si sono proposti anche i sindaci di Signa, Pelago, Rignano sull'Arno e Figline è incisa a Val d'Arno. Al bando di Nardella sulla Mercafir, la Fiorentina risponde con il suo bando e il sindaco di Firenze, secondo i rumors, non avrebbe affatto apprezzato l'iniziativa. Ma il patron Viola non si è fermato al comunicato, nelle ultime ore da Firenze sarebbero partite telefonate dirette a tutta o quasi la città metropolitana, anche a comuni fuori dalla cintura di Firenze. Una di queste l'avrebbe fatta commisso in persona al sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, il quale, dopo aver ribadito che il suo territorio, oltre al centro sportivo per gli allenamenti, non può ospitare anche uno stadio, avrebbe suggerito al magnate italo-americano di usare un profilo meno battagliero nelle sue relazioni istituzionali. Intanto, a sostegno di Nardella, è intervenuto il candidato governatore Eugenio Gianni. L'ho vissuta per dieci anni questa vicenda dello stadio quando era assessore allo sport e ho imparato una cosa, che il punto di riferimento quando si parla della Fiorentina deve essere il sindaco di Firenze, perché il patrimonio immateriale che rappresenta la Fiorentina è Firenze. E quindi ci sono dei livelli anche, diciamo così, di intesa, di concertazione, di trattativa, che io, pur avendo un ruolo importante nelle istituzioni, non posso e non devo nemmeno sapere. Fa parte del rapporto del sindaco con chi guida in quel momento la Fiorentina. Io mi fido di Dario Nardella e vi dico che quello che sta facendo lui lo fa bene.